Il centro di consiglia è l'inizio di Giorgio Vettori! Io voto Giorgia perché è una del popolo. Io voto Giorgia perché finalmente posso votare senza dover tornare a casa. E risparmio pure soldi nel biglietto. Io voto Giorgia perché credo in chi lavora e in uno stato amico dei professionisti e degli imprenditori. Io voto Giorgia perché valorizza lo sport e non si arrende mai. Io voto Giorgia perché si è fatta strada partendo dal basso. Io voto Giorgia perché mi ha aumentato la pensione. Io voto Giorgia perché è una di noi e non si è montata la testa. Io voto Giorgia perché crede nel valore della terra. Ci ha sempre difeso, anche quando dell'Europa alla sinistra voleva imporcire con le assurde. Io voto Giorgia perché ha aumentato i fondi per la sanità. Io voto Giorgia perché difende la libertà delle donne. Io voto Giorgia perché non si è dimenticata di noi. Io voto Giorgia perché ha protetto il mio posto di lavoro. Io voto Giorgia perché ha aiutato le mie mamme a conciliare famiglia e lavoro. Famiglia e lavoro. Io voto Giorgia perché ha aiutato le mie mamme a conciliare famiglia. Io voto Giorgia perché ha aiutato la mia mamme a conciliare famiglia. Io voto Giorgia perché ha aiutato la mia mamme a conciliare famiglia. Io voto Giorgia perché ha aiutato la mia mamme a conciliare famiglia. Io voto Giorgia perché ha aiutato la mia mamme a conciliare famiglia. Io voto Giorgia perché ha aiutato la mia mamme a conciliare famiglia. Io voto Giorgia perché ha aiutato la mia mamme a conciliare famiglia. Io voto Giorgia perché ha aiutato la mia mamme a conciliare famiglia. Grazie.